E che cos'è? Spiegate cos'è? E' un posto che le vici si fanno E' un posto Ma solo tu sei dove è? Vi devo far scrivere qualcosa Quindi la cosa importante è che se tutti hanno scritto sopra l'itinerario Tutti l'avete scritto? Sì Perfetto Potreste ricordare una difficoltà che avete avuto durante il percorso Oppure invece finalmente si arriva e si è venuto silenzio Poi ci do Mi ricordo che era troppo faticoso Ma finalmente sono arrivata Ma nel arrivare mi si è rotto un freno Questo è vero Mi ricordo quel giorno in bici che quando sono arrivato ho bevuto E dopo sono partito per andare a caldo Cioè dopo non vorrei andare avanti La bicicletta La chiesa La scuola Non lo so E' un museo Ah si è vero Almeno mi fa più le sushi per donare per arrivare meglio E qua coloro di vero perché è il bici Sì dai coloro Aspetta che coloro io Io inizio a fare un lato Io inizio a fare un lato Ma non faccio un lato Faccio un cerchio Non faccio un lato Ma fa più o meno così Aspetta lo faccio un lato No ma non farlo subito No vanno da casa No No Sì 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 Io lo voglio mettere qua Posso metterlo io qua? Questo è il percorso del bicicletta Mi ricordo quel giorno così Sono andata in garage Ho preso la bici Poi siamo partiti E quando siamo arrivati Non ne potevo più E ho bevuto E poi sono ripartito per andare al lago di Levico Fatti questo Mi ricordo quel giorno In bici Che quando sono arrivato Ho bevuto E dopo sono partito Per andare a Caldonato Mi ricordo che la casa nostra Siamo andata in biblioteca Ci siamo fermati in un prato a mangiare Ci siamo fermati nel parco Perché mi sono rotta la catena E l'abbiamo aggiustata Ci siamo andata in biblioteca Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.